Buonasera e benvenuti! Stasera, come sapete, siamo qui non per parlare di doppiaggio, nonostante molti degli ospiti siano effettivamente dei doppiatori, ma per parlare di un bellissimo progetto ideato da David Chevalier sul gioco di ruolo. Quindi quella che vedrete fra poco è la prima sessione della campagna di Mogs Chronicles chiamata Pensieri rubati, dal titolo Tutte le spade portano a Erler. Diamo quindi il benvenuto a David Chevalier, Flavio Aquilone, Flavio Flavio Aquilone, Alex Polidori, Margherita De Risi, Kodomo Yuki, Marco Mezzocielo e Gianluca dei Supernova Collective. Io vi auguro un buon divertimento, buona serata e buon gioco a voi. Grazie! 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 Grazie a tutti! seduti a un tavolo insieme a una giovane adulta al fin molto chiacchierona descrivetevi prima tara e poi damias allora quello che si vede a questa mezza elfa che appare con questo grande e ingombrante cappuccio in testa ha dei capelli rosso rosso ciliegia lunghissimi occhi blu è molto a 25 anni ma sembra più giovane seduta con un atteggiamento abbastanza sicuro guarda in basso e ha tra le dita un gioiello che non dice niente che non ha grande valore all'apparenza e lo muove velocemente tra le dita con grande agilità damia se questo tifling che si presenta subito in maniera abbastanza imponente tanto affascinante quanto inquietante ha una carnagione violacea direi proprio viola dei capelli neri tirati indietro con il gel quasi a seguire le orme diciamo delle sue corna a degli abbigliamenti un abito quasi interamente fatto di pelle un lungo mantello dalla quale dal quale esce una lunga coda che muove in maniera abbastanza frenetica e si siede e osserva diciamo tutta la tutte le persone che sono sedute alla alla locanda cercando di incrociare gli sguardi di tutti e spera di avere delle informazioni ma soprattutto spera di essere notato seduto al bancone su uno sgabello invece si poteva vedere una piccola figura le cui gambe non toccavano terra descriviti wix come adesso allora wix è un piccolo gnomo un piccolo gnomo dall'aria molto simpatica ha uno sguardo vispo è molto incuriosito molto incuriosito da quello che ha intorno ha si contraddistingue da questo cappello un po violaceo da cui non si separa mai e non se lo leva quasi mai orecchie a punta molto molto pronunciate che sono quasi più grandi del suo viso e si vedono prima le orecchie poi poi il viso ha una importante cicatrice sul sopracciglio che si è procurato in battaglia e con la sua barbetta i suoi baffetti e diciamo un equipaggiamento da guerriero a un arco con la balestra è molto bene equipaggiato e soprattutto si contraddistingue perché ha uno sguardo molto incuriosito verso tutto quello che lo circonda in questa in questo luogo no vede vede tantissime persone tantissime tantissime creature diverse e ha voglia di scoprire il mondo si vede proprio ma anche uno sguardo molto fiero perché si vuole atteggiare un po da eroe quindi c'è questa questo dualismo diciamo dalla cucina uscì una cameriera portando diversi piatti a un tavolo era un elfa il cui aspetto non passò certo inosservato ai presenti descriviti millir millir è una elfa stregona di aspetto molto molto bello però lei sembra quasi non esserne cosciente esteticamente abbastanza alta molto giovane circa sui 20 21 anni e è particolare perché ha i capelli bianchi letteralmente bianchi le sopracciglia bianche a questi colori molto 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 chiari è molto affascinante però tende comunque a piacere alle persone non solo perché è bella esteticamente ma perché sa rendere a loro agio tutti quanti infatti è sempre molto sorridente si guarda intorno cerca insomma di parlare con le persone e quindi solitamente piace subito dopo che c'è il suo ingresso nella locanda una figura decisamente eccentrica che per una seconda volta nel giro di pochi istanti fece voltare tutti i presenti era un duaran descriviti verian allora un ragazzo di 30 anni con un'armatura molto molto rovinata un'armatura d'anelli ma diciamo che sicuramente la cosa che spicca di più è i suoi tatuaggi neri e viola e un cappello a forma di pigna molto particolare piena e seppa di foglie di piume e un mantello colorato che stona con tutto il suo equipaggiamento che invece sembra raccattato rugginoso pieno di polvere si guarda intorno guardando tutti gli ospiti della sala e i suoi occhi si fermano per un attimo al tifling e poi prosegue il tuo aspetto è un po particolare essendo un duaran descrivici un pochino i duaran sono completamente glabri e in genere sono sempre questi tatuaggi diciamo rituali e come dicevo è giovane un fascio di nervi non trovando molti posti liberi decise di accomodarsi accanto all'ognomo seduto al bancone davanti a loro l'oste una donna umana dallo sguardo furbo mi squadrava interdetta breri non mi avevi detto che era arrivato il circo a iallor posso dirvi una cosa secondo me voi due e si riferisce a wix e a ben farete i soldi appalati cosa posso servirvi salve in che senso il circo scusi no era così per dire beh non siete agli a loro ogni tanto viene il circo voi siete un po singolari non siamo del circo no no siete del circo no no comunque io vorrei una specialità della casa si specialità della casa o allora abbiamo barbabietole arrosto pane di farro con formaggio amaro maiale la specialità della casa è il montone stufato con crescione taglio corto perché è il piatto che ci viene allora il montone aggiudicato sicuramente anch'io prendere il montone ciao piacere piacere mi chiamo verian tu grazie sì grazie prego piacere volevo dire io sono wix che bel cappello molto bello vero mi ha dato mia nonna il mio ti piace davvero bello e che truzze molto bello voi sembrate veramente avere qualcosa in comune ma siete sicuri che non venite dal circo no ci siamo conosciuti ora e dove l'hai preso tu quel cappello è una storia molto lunga sì me l'ha data mia nonna tua nonna sì sì era suo adesso indossava delle pigne queste che bello tutto a gran gusto tua nonna beh sì sì anche il tuo cappello molto bello grazie grazie secondo me potreste veramente mettere su un cielo e noi volevo dire al montebreri il montone per favore prendiamolo come un complimento io non l'ho mai visto ok a un certo punto mena vi dice ma che cosa cosa mi porta qui questa città è un buco sperduto non si vedono così tanti forestieri come mai siete da queste parti se non ripeto non avete quell'attività di cui ho parlato prima ma non no no non siamo del circo io allora senza falsa molestia sono un eroe quando dire così io prendo completamente dalle tue labbra proprio ti guardo gli occhi sgranati e già sono un eroe e sono alla ricerca di avventure un eroe un eroe un eroe dell'eroe di statura in che senso no nel senso sempre che cosa hai fatto sono i tantissimi ignomi eroi uno in particolare è vissuto tanti anni fa è il mio idolo e io seguo le sue orme che ti sarebbe mai questo eroe hai mai sentito parlare delle delle gesta di glindo turgen mai sentito devo portarti un libro la prossima volta ho letto tutte le sue gesta parlano di lui sì 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 è un uomo è stato un eroe veramente per noi non mi è un idolo è un icona perché cosa avrà mai fatto mi sconfigeva delle creature pazzesche e io seguo le sue orme infatti anch'io ho scoperto un sacco di creature enormi livelli piccolo ma e quali creature avresti sconfitto sentiamo ma le creature ha sconfitto mi chiede non so niente continuo a guardarti quasi a muto lì non lo sai master io lo conosco questo blindo mai sentito non mai sentito continuo a guardarsi con gli occhi sbarrati quali tu conosci glindo da questa parte incredibile io ho sconfitto un sacco di di creature enormi giganti ogre infatti questa cicatrice che vedi che la sono fatta in battaglia porto i segni sul mio piccolo corpo si è fatto molto male l'ogre immagino si è fatto malissimo ma non era uno solo era un'orda di ogre erano stati un'orda di ogre 20 20 ogre tutti da solo sì tutti da solo e anche due giganti che si aggiravano di lì mi hanno attaccato tutti insieme complimenti è già è già sentirai parlare di me siete degli avventurieri io sì io sì ma diciamo di sì tra l'altro noi che ci siamo per caso mi hai sentito parlare di un certo daylorn occhio torno cercando proprio lui so che lui è un grandissimo eroe molto più di me mi è arrivata qualche voce ultimamente pare che ci sia una voce una canzone qualcosa credo se quel bardo ne sappia qualcosa ma comunque si pare che pare che questo daylorn abbia fatto qualche impresa qui nella baronia recentemente ha fatto tantissime imprese ha salvato forse un ricordo bene che cosa ha fatto però ha tolto di merce sicuramente qualcuno che dava molte erogne e questo ho sentito davvero e chi è un certo dragonide si chiama bianco si si chiamava rockland tutta roba di insomma di rito di di estorsioni quasi torbide è arrivato questo daylorn quanto pare e così l'ha tolto di mezzo ma è spuntato fuori da nulla una volta era passato è passato anche di qua erler ma nessuno ci ha parlato è passato a cavallo ma non saprei cos'altro dire io lo sto cercando da parecchio perché ho sentito tanto parlare e so che è un eroe vorrei essere diciamo un suo allievo allievo io sono già un eroe è un eroe allievo lui è proprio daylorn è qualcosa di incredibile beh forse potresti essere tu a insegnargli qualcosa visto che ha ucciso 20 ogre di oggi ma lui ne avrà uccisi cinquanta ah beh questo è solo dei numeri in effetti sì forse hai da imparare come si ammazzano quegli altri 30 giusto esatto esatto ma è arrivato lo stufato io ho tantissima fame si arrivo buongiorno buongiorno anzi buonasera scusate che questo è il vostro montone era succulento verian allora io guardo il cibo come se fosse la prima volta che vedo del cibo e con ancora i guanti inizio a mangiare come un animale sul tavolo inizia a sporcarmi completamente tutta quanta la faccia ovviamente anche in pezzi di pigna che ho in testa wix lo guarda nonostante anche lui sia un po rozzetto insomma nel mangiare lo guarda un po schifato perché i guanti rimane un po così avevi molta fame io mi fermo noto lo sguardo di wix e mi tolgo i guanti e quasi ricordando come si usano le posate inizio a mangiare più o meno normalmente ok rosso vedi che i lost e menati ti guarda abbastanza disgustata è un po colpita dal tuo modo di mangiare degli eroi un po caffoni e volevo dire ma mi ha detto scusi no niente niente ma ecco che volete che volete che siete avventurieri forse dovreste parlare dovresti parlare con il nostro sinora il proprietario dell'emporio perché so che a norsi nord si è il proprietario dell'emporio locale perché mi dimmi se sapete ci sono stati dei furti ultimamente a io mi blocco dal mangiare sarebbe proprio qualcosa da eroe sì è proprio roba per me beh direi beh sì sai come per fortuna che capitano degli eroi come te mio giovane bambino è un uomo sicuramente sinor potrebbe essere ben è stato tirato dal è stato derubato si lui è stato derubato ma sono state derubate anche alcune abitazioni qui a erler recentemente girano un po di voci su chi sia stato e chi e chi e chi ma io non voglio avere guai comunque ma che per caso un demone nero demone nero che cos'è un demone nero ma non credo che i demoni neri vadano a derubare la gente ma va bene è strano sarebbe singolare forse dovreste parlare consiglio perché credo che forse ha promette una piccola ricompensa per chi riesce a ritrovare la sua rifugia tenetene tenetene conto io vorrei con te la mia roba per veri verrei con te molto volentieri davvero vuoi venire con me è bello ho già trovato un amico è la prima volta che vedo un eroe da amici di cappelli ma tutto il rotto testa di pini volevo dire per i anna per i per i anna ma cosa ti porta da queste parti io sto cercando di riportare la luce qui la luce di sari a non so se con la ria è certo come no sari a me e si c'era una piccola famiglia qua tanto tempo fa che rompeva nel senso sì quindi tu sei qui non ti porta l'avventura ma ti porta a sari an si questo sarian e la vita e la vita anche l'avventura e beh questa me la rivende la scrivo proprio sul menù guarda sul menù da dare ai nostri clienti sicuramente è affascinante meglio il cappello soprattutto bene allora miller intanto nel frattempo va al tavolo dove sono seduti tara danias e quella c'è un alfling seduta al tavolo con lui e appunto al tavolo con voi è seduta una giovane tara e danias è seduta una giovane adulta alfling a capellino corti castani gli occhi verdi la sua pelle è bianca e liscia ha un viso un po spigoloso e la sua altezza è sopra la media per essere un alfling è una temperatura bella rotonda indossa degli abiti un po loguri un mantello grigio e di squadra con grande attenzione come se dovesse memorizzare ogni dettaglio della vostra persona e poi vi sorride vita scommetto che non siete di queste parti sarete capitati qui per casa immagino perché mai qualcuno dovrebbe venire di proposito in un buco come erler è vero milly comunque io prendo del pene di farro e con formaggio amaro e un boccale boccone boccale certamente arrivano subito ma voi ragazzi volete ordinare magari io sto rendo di fame aspetta abbiamo delle cose buonissime ti ascolto bene ti dico cosa sta nel menù abbiamo barbabietole arrosto con boccale di sidro pane di farro e formaggio amaro con boccale di sidro maiale arrosto e formaggio di capra con boccale di idromele montone stufato e crescione essiccato con bicchiere di vino rosso pollo arrosto e formaggio amaro con boccale di birra chiara uova soda e pane e pinole con boccale di birra scura credo che sceglierò il pollo ottima scelta sarebbe possibile avere la birra scura certamente grazie molto gentile per lei signorina non ho sentito vorrebbe ordinare qualcosa signorina molto simpatica ho sentito cosa c'è devo ripeterle grazie era lungo non ho sentito niente no neanche una parola non ti stavo ascoltando perfetto assolutamente barbabietole arrosto con boccale di sidro pane di farro e formaggio amaro con boccale di sidro maiale arrosto e formaggio di capra con boccale di idromele montone stufato e crescione essiccato con bicchiere di vino rosso pollo arrosto e formaggio amaro con boccale di birra chiara uova soda e pane e pinole boccale di birra scura le uova io prendo sempre le uova io prendo sempre il formaggio amaro si si è buono ho capito formaggio amaro mi ricordate da bere mi scusi bell'uomo cosa prende da bere birra scura ok e per lei signorina anche per me che sarà facile ok mamma mia birra scura via scura due bere scure e mi ricordi da bere io prendo il boccale boccale di sidro sidro perfetto arriva subito tutto ragazzi grazie vedete che mi riva via e questa alfling si mette proprio così e si guarda con gli occhi proprio a palla come se senza preoccuparsi minimamente del fatto che vi sta fissando in modo un po pesante un po inquietante ultimamente sapete che ci sono stati dei furti a erler ma poi siete dei forestieri e è strano forestieri rubano e poi non lo scusate voi io non ho mai rubato niente in vita mia ma neanche io mai anche mille si chiama la ragazza è rubato a casa ma chi è stato fai a sapere tutte queste cose forno meglio sapere le cose che non saperle sempre meglio informarsi perché insomma uno non può mai sapere cosa succede nella vita quindi più uno ne sa è più sì ma dato che sai tutto chi è stato non lo sai è un giro tante luci guarda un giro tante luci pare che sia stato un certo è win è win è un bulletto locale ha una banda una banda di truffaroli gente che truffa che va che va a rubare nelle case che fa brutte le cose una volta è venuto anche qua è venuto anche qui e quando è entrato hanno passato tutti lo sguardo e poi è andato via sì ma non mi interessa beh io lo trovo molto interessante comunque ultimamente erler si è riempita di un sacco di forestieri come voi guardate anche quei due per esempio al bancone c'è quello con le gambe corte più corte delle mie quello là lo vedete ecco e poi anche quell'altro con la testa di pigna è stranissimo e poi c'è quel bardo vedete quel bardo non c'era l'altro giorno è venuto qui e poi e poi c'è anche un elfo seduto a quel tavolo lo vedete quello là c'è un elfo vi girate vedete un elfo al portamento un po sostenuto albino ha un aspetto molto particolare vestito insomma degli abiti molto sfarzosi credo che quella sia un nobile sembra che abbia un palo nel sidere è strano è strano che gente del genere viene qua sicuramente c'è qualcosa di rosco è veramente strano io non so perché certo gente viene qua comunque tutti oggi sono venuti fra oggi e ieri si è riempita di forestieri tu però non sei strana per niente ma perché mai no cosa è strano io parlo con tutti io sono socievole comunque comunque dovete sapere che c'è anche il negozio di sinora è stato sfatiggiato non soltanto la casa di milioni questa cosa invece mi interessa e come hai detto che si chiama signora conosci le stranezze di sinora eh sì conosci allora allora non sei una forestiera già stata qui è no non ci sono mai stata e come fai a saperlo secondo me ti piacciono le informazioni a te eh no eh non sono affari qua e non ti conosco eh possiamo conoscerci però io sono contenta se ci conosciamo che mi racconti cosa ti porta a chi eh sto cercando questo posto ah davvero davvero questo posto e perché lo cerchi ti conosco piacere erin piacere tara damia spercepisce proprio la la tensione nell'aria e si sente molto escluso lui detesta essere escluso e quindi il rompe nella conversazione ma lo sai che hai dei capelli stupendi li stavo notando prima sei proprio fantastica grazie ma la tua coda damia da viola diventa rosso e si vede che col mattello cerca di nascondere questa coda che ovviamente non solo non può nascondere ma comincia a muoversi ancora ma è bellissima grazie grazie insomma per quale motivo sei venuta qui? beh come dicevo sto cercando questo cercavo proprio questo negozio questa questa informazione mi destabilizza ma credo che andrò lì a breve insomma che cosa ci fai qui? bel ragazzo ma sai che sei proprio bello strano si è proprio bello infatti strano bello però è perché con quella coda ci sembra proprio un gatto sai non ho mai visto uno come te da queste parti che cosa ci fai qua? ovviamente damia prima di rispondere fa finta di accusare il colpo e di fare il timido in realtà non aspettava altro insomma ma io in realtà sono alla ricerca di qualcosa di molto prezioso per me io sono un uomo amante della cultura quindi sto cercando un libro un libro? quella dici la parola libro vedi che quello che ti ha indicato prima con l'elfo seduto a un tavolo poco distante da voi fa tipo stava mangiando e fa tipo così si gira e guarda nella vostra direzione e noi lo vediamo? si ve ne accorgete quanto vista? 4 metri 5 metri non vi passa inosservato perché dopo che Erin ve l'ha indicato diciamo già non passa inosservato di suo per il suo aspetto poi vi avete buttato un occhio e avete subito fatto caso a questa cosa che però appena percepisce si rende conto che lo state guardando gli stoglie un attimo lo sguardo cioè si è reso conto che lo state un attimo guardando notate questa cosa e quindi tu sei qua per la cultura e questo libro che libro è? come si chiama questo libro? damia si ha notato questo scambio di sguardi e improvvisamente perde completamente interesse nel parlare con la ragazza e cerca di attirare l'attenzione invece dell'elfo e cerca di ordinare una birra per l'elfo e chiedo scusa come si chiama l'attenzione? non mi interessa come si chiama la ragazza che è venuta a prendere l'ordinazione? Milir ma c'è anche Breri Milir? la chiama? si dimmi puoi portarci un'altra birra per favore? birra scura? scura per quel uomo laggiù per quel bell'elfo alto l'elfo laggiù? si proprio io ah si? vi conoscete? no è un problema? no no si cioè no ok grazie scura va bene arrivano scusa ma il nostro cibo? eh arriva subito signorina un secondo c'è tanta gente stasera non direi che c'è tanta gente ma perché invece di Friglia Mabira non ce l'avevo a parlare? non ce l'avevo pensato potevi risparmiare a te questi giorni ma beh che pensiero vulgaro? ma lo sapete che siete proprio una bella cocchia? eh lo penso pure io infatti belli che belli strani soprattutto lo è strano tu non sei strano in casa strano strano hai la coda sei viola hai queste corlettine carine che bello Harry ma che dici strano i clienti ma scusa ma che c'è di male? ma dai sempre sempre solita chiacchierare dai su calma allora signori ragazzi è arrivato è arrivato tutto il pollo per il ragazzo con la birra scura le uova per la sigla insomma era un complimento eh certo ah ok grazie grazie per lo lo strano era un complimento strano sì due scure e porterò anche la birra al signore lì giù allora perfetto Damias afferra la birra e comincia a berla con un certo nervosismo e nel frattempo guarda Miller che accompagna diciamo la birra al tavolo dell'elfo e aspetta di appena arriva ricambiare lo sguardo arriva la birra Miller porti la birra al tavolo porto la birra al tavolo dell'elfo ma io non l'ho ordinata io prendo gli ordini il ragazzo belloccio laggiù con la godante ah ma vuoi che ci parlo io facciamo sempre d'accordo vedi che si alza dal tavolo viene verso di te con la birra in mano si avvicina io ti ringrazio per questa bevanda ci mancherebbe ma io bevo questa frase ovviamente spiazza Damias in un modo non si aspettava minimamente questa cosa e cerca invece di convincere l'elfo guarda che la birra è proprio buona sei sicuro che non vuoi neanche assaggiarla? beh diciamo che non è una bevanda per il mio ceto ma comunque ti ringrazio quindi la bevo io? se vuoi sì ma perché non ti siedi con noi? facci compagnia ma perché? non mi piace mischiarmi molto alle persone piuttosto ho sentito che prima facevi menzione di un libro sì in quale libro si tratterebbe? eh non credo che tu lo conosca si chiama il guardiano della lapide vedi che il suo sguardo si illumina improvvisamente ah e perché ti interessa quel libro? Damias ovviamente non ha nessuna intenzione di rispondere comincia a muovere la coda in maniera frenetica ma non è un libro insomma molto caro a una persona che conosco e lo sto cercando da molto tempo perché? tu ne sai qualcosa? sì ne so qualcosa ma non sono informazioni che sono disposto a condividere ti basti sapere neanche per un calice di vino? no sono in grado di comprarmi questa baracca in cinque minuti ma piuttosto vorrei sapere una cosa questo libro io sono venuto a cercarlo qui come te ma si dà il caso che il tizio che dovrebbe averlo non me l'ha venduto io non sono sicuro che non ce l'abbia realmente che non abbia voluto abbia deciso di non vendere l'ha venduto non ha quel libro è un libro che non ha valore ma chi è questo tizio che dovrebbe averlo che l'ha venduto Sinor proprietario dell'Emporio io sono venuto per acquistare quel libro da lui ma mi ha detto che non ce l'abbia quindi facciamo così ma se noi il nome di Sinor non l'abbiamo mai sentito giusto? eh? noi non l'abbiamo mai sentito il nome di Sinor lei sì e tu al tavolo prima l'hai sentito ne hai parlato erano vicini? non ho capito quando prima è stato fatto il nome di Sinor erano vicini sì sì e quindi insomma ti dice beh non mi ha voluto vendere quel libro io lo sto cercando per me quel libro ha un valore che va di là forse di quello che voi riuscite a immaginare perciò facciamo così io ho ben chiaro cosa ha valore e tu chi saresti? c'è una mezza elfa non lo vedi? si come ti chiami? finisce la birra in un spazio e poggia il calice io mi chiamo Finelis io mi chiamo Tara Finelis Quiltras Tara D'Ambros D'Ambros? sei bianco molto bene e che ci fai da queste parti? cercavo giusto Sinor e il suo negozio un'informazione molto interessante questa tu sei una nobile certo non è conosco la tua famiglia di nobile perché mai dovresti stare in un buco come questa? non ti conosco hai detto che sei di Antu anche tu? no siamo dietro però siamo vicini eh sì lo vedo ma molto vicini comunque la mia offerta è questa io voglio quel libro e sono disposto a pagare un ingente insomma ecco questo mi interessa posso sapere per quale motivo ti interessa proprio quel libro? posso sapere perché ti interessa proprio quel libro? non ci sono affari che ti riguardano sono delle informazioni riservate basti sapere che quel libro ha un grande valore per me e contiene delle cose molto importanti comunque sono disposto se voi doveste andare da quel Sinor a pagarvi 200 monete d'oro se doveste recuperare quel libro vorrei che vi accertaste che effettivamente effettivamente il libro non è lì e se non è lì vorrei che voi lo ritrovaste per me e che me lo portaste io ci sto se tu ci accompagni e ci dici dov'è questo posto dato che io non so dove sia beh qui vicino potete chiedere a qualunque plebeo Damias è sconvolto dalla cifra si riprende il boccale di birra anche con stizia dice quel libro vale molto più di 200 e comincia a bere il tuo boccale guardando dei mignocchi abbiamo un accordo? rispondi tu mi ho offerto la birra ma per me sì a me i soldi interessano sempre e tu come ti chiami? io? mi hai detto il tuo nome no non te lo dico cerchi il libro mi chiamo Danas vorrei tanto sapere perché stai cercando quel libro beh non sono informazioni che sono disposto a condividere con te conosco il sentimento capisco beh quel libro dovrà prima o poi appartenere appartenere a qualcuno e apparterrà a me a me non interessa a chi apparterrà mi interessano 200 ho detto 200 no? buono? Damias è completamente disgustato da questa conversazione continua a bere birra ma in maniera ossessiva e finisce anche il secondo calice boccale ho già anche il secondo ed è ormai completamente saturo pieno di birra non ne può quasi più questo mi piace sono lieto del nostro accordo anche io penso che ci vedremo presto allora con buone notizie mi auguro anche io buona serata grazie e se ne va al tavolo a un certo punto Yarravel il nostro bardo inizia a suonare il suo pezzo forte ora prestate attenzione al vostro bardo migliore che non fiste di cose le ha cantate per tutti voi ma mai avrei detto che che un sogno possa essere realtà la triade è una chiave che con voce soave lei fu salvata dalle grinfie di rock fu salvata dal più quercio degli eroi fu salvata dal più torbo degli eroi fu salvata dal più tosto degli eroi il suo nome era dai lor occhio torbo il suo nome era dai lor occhio torbo il suo nome era dai lor occhio torbo Wix è infatti scasiato Miller e Wix rimangono particolarmente colpiti dalla canzone Miller conosceva già la storia ma rimane colpita da un dettaglio cioè la triade è una chiave ti colpisce questa frase cosa potrebbe mai significare quella frase mentre invece tu sentendo Wix il nome di Daylorn occhio torbo impazzisci dai lor occhio torbo roba cioè lui si rimane così lo so tutti si mettono di applaudire lui continuava solo sì sì un brivido si passa da parte a parte che è così poco poco e Daylorn occhio torbo no no ho sentito bene ok piacere Wix mentre Wix si alza per venire da te vedi che comunque anche un sacco di altra gente cioè esplode la folla si alza vengono a metterti delle monete nel cappello io anche io anche inizio a cercare nel mio orribile sacchetto un sacchetto vecchissimo che contiene niente praticamente tiro fuori una moneta d'oro tutta smangiucchiata e mi avvicino mi metto dietro a Wix tagliela 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 e cos'è ti devo dargliela dai ok mi perdono tagliela grazie grazie io faccio degli inchini molto sinuosi quasi come alla fine di un balletto quasi come fosse un ballerino molto umilmente finto umilmente mi inchino grazie grazie io cerco di spostare gli altri devo farli avvicinare perché devo parlare io per prima quindi grazie la moneta ti abbiamo portato una monetina il cappello puoi mettere anche te grazie che c'è niente è sua grazie grazie io lo saluto da discosto però sono un po' lontano sempre rosso nel frattempo Miller ha tolta il piatto con le uova che la cazzo bordello subito si ricompone va da lui ciao ma che bella voce appena arriva Miller io proprio sposto sulla pancia sulla testa proprio perché con una manata in testa ma sei veramente bravissimo che c'è? un problema alla bocca? io a Ravel ma sei nuovo qui? molto piacere beh sì sì sono nuovo ma immagino già mi conoscevi Ravel la ballata Revel Revel si Ravel Ravel scusai come ti chiami? bambino per favore sto parlando un atto come bambino? Marian mi ha chiamato bambino e insomma questa canzone che bella l'hai scrittata tu? certo davvero e quindi sei un bardo vuol dire che l'hai vissute queste cose? beh sì le ho vissute in realtà davvero? in realtà le ho vissute ma è come se non le avessi vissute ma perché mi stai facendo queste domande? perché sono curiosa sei così bravo esprimi tutte queste belle notizie insomma perché sei interessata fortunatissima sono molto interessata sì sei bravissimo sei bravissimo ti devo fare delle domande tantissime domande la triade no? hai detto parato questa triade mazzo che cosa ha detto? questa triade dicevo dimmi un po' di più se è qualcosa che bello voglio sapere racconta parlavamo di come scrivo le canzoni come mi ispiro sì che sei interessata a queste sì certo diciamo che l'ispirazione è molto l'ispirazione barbica sì un certo momento difficile sì non l'ho scritta io come l'hai scritta? cioè mi avvicino un po' anch'io e chi? scusa chi l'ha scritta? e soprattutto come fai a conoscere? potete avvicinarvi? possiamo parlare? ci sono noi ovviamente noi ovviamente notiamo questa cosa notiamo questo piaccheriscio se stanno vicino o no beh stanno in questo momento un po' distanti però se poi si accorgono e vogliono partecipare beh io ho assolutamente si noto questo chiacchiericcio poi comunque noto lui quindi vado vedete una mano vuole fare qualcosa? sì voglio sapere quando si sono avvicinati tutti compreso il tipo ok tu rimani dove sei aspetti che cioè vedi che loro si stanno alzando mi avvicino ma resto sempre un po' a lato ok e quando vi richiamo a me vedete una una terza mano che insomma dirama dalla mia mano e mette a posto il mandolino lo riaccorda lo rimette da solo sulla diciamo sul palco sul palchetto al lato della della teverna madonna ma che figata ma quanti amaniaio ma che ciao ciao c'è finora nella mia vita mi piace questa cosa della mano ah ok poi se vuoi te le insegno comunque grazie tu parli solo con le ragazze? no assolutamente stavo parlando anche con te io sono che ho portato una monedì scusa tu chi sei? non ho capito tu chi sei? come chi sono? lui è non mi conoscete? no ma come come non lo conoscete? ma i tuoi genitori sono qui ma tu sei minorenne non puoi vedere la mia ma quali genitori? ma non è un bambino sono un ognomo è normale che sono piccolo ma non sei minorenne? no ho 21 anni mi pensa maggiorenne anche io sono Wix Wix Silkemaf detto lingua lunga non chiedetemi perché chi lo sa non si capisce mi chiamano lingua lunga piacere piacere un eroe è un eroe allora mi conosci? hai sentito parlare di me? senti scusa tu sei di queste parti lo sai dove dove è le stranezze di sinori io devo andare là io voglio sapere di dare un occhio torbo lo vedi? lei lo conosce? io sono di qui lo conosco perché? perché voglio andare là eh stai calma sto calmissima ma scusate stavamo parlando di me no? ma tu chi sei? scusa eh sono il pardo quello che ha appena cantato la canzone applaudivano tutti era tutto su di me minimo di notorietà minimo non capisco io ti ho ascoltato Yarravel ti chiami bravo bravissimo grazie grazie dammi a se arriva barcollando ormai senza più neanche una una dimensione si appoggia non ha sentito una parola di un altro mio fardo come ti chiami? siete belli eh carini sei proprio bravo bravo e bello che adesso si rigidisce seguito che è un complimento ok cara ci porti una birra per lui ma sei sicuro? si ma per lui o per te? per lui per lui una birra scura allora ok devi assaggiare questa birra credimi è una scuola sicuramente la scura me la offri anche a me me la offri anche a me ma sei un bambino? non è vero ho 21 anni allora una birra scura una birra scura per lui? nessun altro vuole una birra? io io offri tu non l'ho mai bevuta una birra una birra anche per lui mentre voi state parlando un bicchierino però perché sennò comunque ok scusate mentre voi state parlando Berian allora io intanto che state parlando e vi vedo abbastanza distratti voglio fare un passo indietro metto una mano sotto a questa specie di mantello colorato che ho me lo metto in petto vorrei fare percezione del divino praticamente a 18 metri vedo se ci sono celestiali immondi non morti posti o oggetti sacri o sacri ok fai questa breve preghiera è un'azione poi alzi lo sguardo e vedi che effettivamente il tifling si illumina è l'unico illuminare ok ritorno in mezzo all'ora si sei stato proprio bravo bravo diglielo Berian grazie mille Berian e vi stavo dicendo nel frattempo mi li si spiega questa birra che gli calca a te ti ha portato un bicchetto un cicchetto praticamente mi sembra enorme ma che bello per te ti sembra grande ma hai bevuto una birra allora lo vedi che sei un bambino cosa sei un bambino perché l'abbiamo sentito non è che non c'è Wix no ma io dico tante cose e per te la birra scura Wix dicevamo nemmeno io nemmeno tu assaggia che io tutta mi fai vediamo la insieme stavo dicendo l'assaggio prima io ok e sostanzialmente non che quartale non non ho scritto io questa canzone io di solito scrivo le mie canzoni ovviamente la ballata dei giganti e l'hai rubata la ballata della bella donzella il copyright la ballata dei giganti parla di me forse no ci si 40 aspetta fammi arrivare al punto io mi addormento si è come se di notte sognassi una voce femminile che mi pareva mi e che mi 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 dicesse quello che devo scrivere io basta che ci metto sotto due attori una voce nella tua testa si esatto oh so perfettamente che cos'è davvero si soffri di insonnia ti prende il boccale e inizia a birre anche la tua birra ah senza rispondere alla tua domanda me lo dicevi ti ne portavo un'altra no stai e tanto si beve la sua e quindi questa e quante canzoni hai scritto così sono in realtà finora solo una solo questa però è quella di maggior quindi hai sognato qualcosa tipo un demone nero demone nero come dice come dici demone nero io nonostante la mia insomma il mio stato un poco presentabile mi irrigidisco e ti guardo ciao io sono Varian tu sono Damias ciao Damias perché cerchi un demone nero? diciamo che ho fatto una promessa lo devo trovare ah interessante si e che che devi fare al demone nero? devo ammazzare vedi che Damias ha un attimo di non ho non ho capito scusami che cosa devi fare? c'è questa birra con cui si lo devo ammazzare e perché vuoi ammazzare il demone nero? vedi gli occhi di Damias che diventano rossi e la coda che ovviamente comincia a muoversi su il mantello guarda che bella che bella questa coda il suo complimento proprio non gli arriva minimamente peccato beh anche io non ho occhi che per te in questo momento immagino e perché mi ha tolto tutto e io toglierò tutto a lui faccio una torsata quando abbassa la birra non fa una piega quando abbassa la birra in realtà l'espressione è sempre la stessa ma vedi che c'è proprio due goccioloni di lacrime come se non si vergognasse nemmeno di farsi vedere così quix è un po' amara infatti te la stavi finendo scusa eh ragazzi è birra è amara per forza non siete abituati mi porto un bicchiere d'ha con succo di frutta no come non bevo questa birra amarissima è un eroe un eroe guarda quante armi guarda quante cose equipaggiamento non so di gomma ma no no sono vere sono vere sono dei boss è impossibile vabbè ma perché sei amico del damone nero sai dove posso trovarlo non so di cosa tu stia parlando e si infastidisce talmente tanto dalla tua presenza è che ti dà le spalle quindi vedi solo la tutta io me li avvicinavo un altro sorso prego 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 abbiamo desviato un po' troppo in realtà non mi piace non ti piace ragazzi stavamo facendo delle domande al nostro bardo questo daylor l'occhio torvo mi parli un po' ma lo sai chi è? sì però siccome magari tu sei parlato beh saprai benissimo che è un grandissimo eroe ha detto che non le scrive lui le canzoni non tu no e allora chi la scrive? è daylor quindi non lo conosce non lo conosce sentito questo nome io lo sto cercando è perché io l'ho sognato però è che poi queste queste cose accadono cioè i miei sogni diventano ballate ma sono cose che succedono realmente cioè io non avevo io non avevo assolutamente idea che daylor nocchio torvo fosse una persona reale certo che lo è come ma non conoscete nessuno di voi conoscete daylor nocchio torvo no se ne parla ovunque in giro ha salvato un sacco di persone ha salvato anche un ognomo che ha combattuto e voglio dire ha salvato tante persone dai ogre i giganti e ha combattuto al fianco di un ognomo prima l'aveva salvato ma non era un dragoni del bianco non ho capito non era un dragoni del bianco no ha combattuto anche ha salvato anche un sacco di persone non me ovviamente non mi ha salvato mai ma io non lo conosco però vorrei conoscerlo mi sembra che quadri perfettamente avete capito sì ma chi ha salvato ha salvato un sacco di persone hai detto un ognomo un ognomo sì tipo me ma non ero io ah ho capito un amico scusami non mi interessa possiamo andare al negozio di Sinor per favore di chi? ma adesso hai detto che sai dov'è ha capito ma è l'ora di cena farà chiuso no? Damias arriva e abbraccia mille per far tesoro ho saputo dei tuoi furti mi dispiace tantissimo guarda ha un alito devi togliere la mano milir un tantino un brividino le viene perché insomma è un bel ragazzo bene andiamo al negozio di Sinor adesso è chiuso dove vai? ci hanno detto che è stato rapinato peggio ancora quindi è chiuso tutto aperto praticamente cara ma che domani mattina vado a colazione domani mattina se volete in effetti ho sentito parlare di questi furti sarebbe interessante indagare un po' io sono un eroe posso magari risolvere la situazione ma che voi sappiate qui c'è un posto per dormire possiamo rimanere qui? certo che c'è vedete che si è alzata l'Halfling che è stata a guardarvi tutto il tempo raccogliendo proprio informazioni sa tutto di voi praticamente vi ha fatto una specie di lastra sa vita morte miracolo vi ha proprio archiviato nella sua testa certo qua si può anche dormire ve lo puoi dire ve lo puoi dire Emilio vero? si dorme si dorme si dorme allora andiamo tutti a dormire ok come ci dividiamo in camera? come volete che ve lo dico io ma non ce ne sono sei? anzi cinque? no no ce ne sono di meno sicuramente magari dovremmo fare che ne so magari a due a due cioè tipo io con Berian ma quelli con i cappelli vero Berian vero ieri 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 si impiccia con le parole anche quel sorzetto di birra ha fatto effetto vengo qui vieni si ma quanto costa dormire qui? non so tu ho visto che hai un sacco di monete in quel o no? si l'oste riguarda senti una racchiazione non sono molto a mio agio cioè non le uso sono quasi dei ricordi me ne tieni tu? va bene ah le posso tenere? si le posso usare? si hai capito grazie Berian me ne tengo solo una per ricordo che questa era di mio fratello me ne tengo questa wow hai un fratello? si ha anche lui un cappello così bello? no non ti interessa questo mi interessa ok come ti chiami? Tara io Berian ciao e sto con Wix che è un eroe lo voglio vedere in azione si sono io comunque prendo una moneta d'oro che forse è ancora peggio di quella che ho tirato fuori prima che c'ha proprio segni dei denti sopra e me la metto da qualche parte adesso le dai a me? si si e sono un ammontare pari a tre monete d'oro che una l'ho data agli arrave ce l'ho fatta agli arrave prendo le monetine le metto nel mio sacchetto in realtà sono varie ma non le vuole spendere Wix è furbacchione a Simone si offri le birre e quindi niente li tengo io li tengo io va bene per le altre due camere ma guarda che bello bella compagnia di gente nuova Miller si? di a questi signori quanto costa dormire qua lo sai? giusto? io mi occupo dei piatti sinceramente non ricordo tra di noi c'è il solito accordo vita alloggio suono ma si diciamo che tu hai suonato molto bene perciò per te stasera offre la casa ma per voi altri per voi altri sono cinque monete d'argento a testa per dormire più mi dovete pagare quello che avete consumato diciamo che sono altre dieci monete d'argento siete gruppo adesso o no? Damias prende subito il suo borsello e fa il birro offro io prende una manciata di monete d'argento e le lancia così proprio in modo abbastanza goffo ma dobbiamo pagarti adesso? grazie Damias non ti rispondo è un po' seccata Mena se ti sembra con te perché insomma ti ha visto un po' disattenta Mir dopo dobbiamo ti devo parlare un attimo ah sì certo quando vuoi allora pagate io prendo le monete e in realtà parlo con te e ti trovo a a distrarti ti metto proprio dico guarda eccole te le metto in tasca mettendo delle in tasca parlo parlo con te in realtà me le riprendo ok fammi almeno una prova in rapidità di mano e invece se ne ha corso invece e qui voglio guardarlo beh direi che non te ne accorgi 20 naturale così no vabbè comunque 20 in totale lei ti guarda è tipo distratta da un particolare del tuo aspetto cioè dai tuoi capelli rossi così abbindolata non si accorge di niente nessun altro si accorge quindi fammi una prova in percezione voglio provare pure io 13 stai guardando proprio lì tu ok 13 no è stata talmente ha fatto un gesto talmente fatto bene diciamo che anche a te anche tu sei rimasto distratto da te sei pure un po' un po' umbriago diciamo meno 5 quindi praticamente ti riprendi le monete che le hai messo in mano e lei ti guarda ah grazie ma dove si mette si china per terra per cercare ste monete come se le fossero cadute io faccio con le monete berian ok arriva arriva breri l'altra cameriera dice che stai che stai facendo mi sono cadute delle monete dopo aiutami se non le trovo e nel suo tempo prende breri prende l'altra cameriera prende le vostre monete e vi dice beh comunque sono contenta che vi fermiate qui stasera sono molto contenta siete dei tipi piuttosto strani non non capita molto spesso che ci sono che ci siano tanti forestieri tutti insieme in questo buco è vero è vero loro sono strani è vero Milir è strano assolutamente assolutamente sono belli bravi talentuosi e pieni di informazioni e quindi va bene allora volete 6 camere adesso vi accompagno io ah quindi ce ne sono 6 ci sono 6 camere no io voglio stare con il mio amico Verian ce ne sono un po' di più ma 6 per voi ci sono anzi 5 perché tu Milir è giusto dormi a casa tua eh certo ragazzi io vi lascio dormire io vivo qui sono di qui quindi ci vogliamo rivedere domani mattina sì così andiamo a cercare un po' di informazioni volete che vi porto da sinora facciamo anche colazione facciamo colazione sì un'avventura fantastica insieme a voi quindi tu torni a casa proprio sì torno a casa ok vivo qui vicino abbastanza vabbè avevi fatto un sacco di complimenti pure a me non ho mai dei belli capelli dove sei stata ma perché tu dormi qui? sì ah niente niente e che è successo? ah e ok niente per chiedere Verian anche tu sei di qua in teoria no ma preferirei non dormire a casa mia ok poi ci pensavo X a fare i conti io sì ho speso tutti i tuoi soldi io li ho dati tutti mi sono tolto il no in realtà no 5 lunedì d'argento no ok ok quindi Breri vi fa strada vi accompagna alle vostre alle vostre stanze e Wings sono decenti diciamo preferirei dormire da solo questa notte è tanto tempo che non vedo un letto grazie chiudo la porta Wings ci rimane malissimo piccolino vuoi campagna? ma è minorenne? benissimo non da me va bene dormirò da solo se vuoi possiamo dormire insieme mi risuoni la canzone dopo? certo la rifaccio voce bassissima proprio faceva eh l'orno torbo quale? così già la sai eh l'orno occhio torbo però proprio così faceva l'hai imparata subito eri chiabilissimo stonato no 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 eh 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 che poi sarei io che poi sarei io e quindi quindi niente arrivate nelle vostre stanze e sono decenti insomma sono tutte singole e vi accomodate definisci decenti decenti insomma sono pulite quanto meno però sono molto molto spartane vabbè parla perché ancora malissimo e si butta fa un saltino si butta su questo letto e dorme un secondo e comincia a russare fortissimo come se fosse un orco di due 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 vedete il rave che si mette nel letto accanto e fa tipo e poi russa eh non sono tanto bravo a farlo però è strano un maiale ho fatto l'unica cosa che sai fare un viaggio non lo so fare lo fanno assolutamente dai russatore assistente vabbè fatti po' ok io provo ad armonizzare i russi capito quando tu li fai così mi metto solo e provo a armonizzare i russi e quando vedo che viene una cagata pazzesca provo a dormire ma non dormo vabbè finisce così la storia di questa giornata di questa notte Milir tu nel frattempo sei rimasta sotto a sparecchiare nel frattempo la gente ha cominciato ad andare a lasciare la locanda perché l'ora è un po' tarda e c'è Erin che si avvicina a te e ti fa senti ma hai visto quanta gente strana nuova cioè stasera eh non sai che due di loro stanno cercando sino ormai non te l'ho mai chiesto ma tu poi sei andata a parlare con Simor del tutto a casa tua perché anche sono andata quindi effettivamente interessa un po' anche a me penso che ci andrò anch'io domani insieme a loro davvero oh che bella notizia eh è bella tu sei come me però socializzi un sacco con le persone no perché per niente no secondo me un po' sì tu parli un po' troppo però no sì è bello parlare è bello però insomma c'è un limite a tutto no delle volte vai un pochino oltre ma pelino un pochino di meno un pochino di meno vedi che un pochino si rabbuglia perché c'è rimasta un pochino male questa cosa perché gli avevi detto tipo due tre volte stasera quindi va bene ma non ti dispiacere sei sempre benvenuta qui eh eh certo cioè tanto io sono l'anima di questo posto se nessuno cioè se mi ci mancherebbe che non foste contento assolutamente va bene la prossima volta ti darò una moneta di rame in meno di marcia ecco ma dai su stai cavolata su stavo scherzando stavo scherzando poi se ti si avvicina all'oste che nel frattempo non ha trovato nessuna delle monete che stava cercando capisco dice Milir senti un po' sì stasera mi sei sembrato un po' distratta eh sì scusa davvero scusa ti sei messa a chiacchierare no per carità va bene un po' chiacchierare con i clienti però stavo pensando che forse dovresti prenderti qualche giorno oddio mi stai licenziando no non ti sto licenziando però secondo me sei un po' sotto pressione sei sicura ma va tutto bene va tutto bene solo che insomma ti hanno rubato a casa da quel giorno sei un po' ti vedo un po' turbata poi ti distrai un po' con la gente prenditi qualche giorno basta che non mi licenzo no non ti licenzo ti servono i soldi ma sì ma non ti preoccupare ok non ti preoccupare allora domani lo prendo libero prenditi qualche giorno grazie non ti preoccupare tu torni a casa Milir voi passate una serena nottata abbastanza insomma a parte chi è che russa come un pazzo ecco piccolo fa tremare tutta la locanda e ok quindi la notte passa tranquilla vi alzate è mattina e siamo qui sentite un buonissimo profumo di pane pane appena sfornato Milir visto che ti eri un attimo sentita con loro e sei rimasta d'accordo sul fatto di andare insieme da Sinor anche tu sei tornata in locanda la mattina e praticamente sei anche tu una cliente oggi praticamente praticamente e quindi è mattina e mi siete appena svegliati Wix che bella dormita non mi trovi io non sto in camera con te lui parla pensando di trovarti ma dov'è? Yaravel 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 mi lasciano tutti solo che succede? che succede? arrivo io con mezza armatura ciao Verian come stai? hai dormito bene? ho dormito splettitamente non mi succedeva da tantissimo ce l'hai il cappello? ce l'hai sempre ho il cappello però ho un mezzanotte mi dai una mano? mi dai una mano da solo certo su se non muoio prima ancora il russo della nottata in due e ti aiuto ok andiamo senti che buon profumino ho una fame da lupi anche io ti seguo ti seguo andiamo andiamo saltella su queste scalette arrivata nell'atrio? sì io vedi Yaravel che sta nell'angolo della taverna nell'androne della taverna e è concentrato a far rotolare tra le mani un dado un po' più grande di un D6 diciamo giallo e con delle figure stranissime sopra e sono sempre in procinto di tirarlo ma non lo tiro ok in un angolo vedete che arriva Tara e una sua particolarità è che lei fondamentalmente quando si muove saltella fischietta saltella è agile arriva in realtà non le interessa nulla nei suoi pensieri arriva sente l'odore un buon profumo ha fame e arriva saltellando Mili in realtà era già lì perché abituato a arrivare prima dato che lavorava lì era già lì che mangiucchiava un pezzo di pane caldo appena sfornato Damias scende le scale in modo goffo e si vede subito che è proprio rintontito dalla pessima nottata che ha passato assolutamente quindi barcollando con un mal di testa lancinante arriva nella stanza centrale con tutti loro e nota il dado lo guarda con un'aria incuriosita ma non dice nulla e va avanti che profumino facciamo colazione tutti insieme ciao ragazzi ciao buongiorno ciao ragazzi ben svegliato Jan 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 Jeravel hai sognato qualcosa? hai sognato qualcosa? hai sognato qualcosa? hai sognato? sempre Daylorn ah sì sono proprio curiosa hai sognato qualcosa? no hai dormito? no perché? 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 per lui? perché? avete dormito insieme? perché non mi ha fatto chiudere occhio? ma come va? scusa non ho capito tu russi come un gigante tu non li uccidi giganti tu russi come un gigante ma non è vero è impossibile fisicamente che tu faccia uscire quei suoni dalla tua bocca ma sei sicuro che ero io? sì ti assicuro in effetti anche mio fratello dice sempre per lui però non mi credevo pensavo che lo dicesse tanto per cosa fai con quel dado lì? nel momento in cui me lo chiedi lo tiro e appare un simbolo tipo di una goccia ti guardo li guardo tutti verrò con voi così te l'ha detto il dado? quale dado? me lo rimetto in tasca non mi interessa più che fico andiamo andiamo io voglio vivere un'avventura fantastica non mangi ragazzino per favore mangiamo strada facendo parla piano parla piano Damias sta cominciando a non sopportarti sta perdendo proprio qualsiasi freno qualsiasi maschera vede che lo guardi gli dici ciao ma noi non ci siamo presentati di preciso hai detto che ti chiami? Damias Damias che figo io? sì sei forte grazie quella cosa è bellissima vabbè però non è no e comunque niente io sono Wix non so se te l'ho già detto detto lingua lunga sì infatti lo vedi che non sta proprio no? in forma ma mi sento già meglio devo dire vuoi un caffè vuoi qualcosa? appena dici caffè gli viene da vomitare in un modo solo un'idea di prendere il caffè allora non mangiate siete così agitati soprattutto devi stare un attimo calmo sembra che sia il fatto di tutto va bene allora se volete andare senza mangiare andiamo all'avventura esatto voi fate come volete se volete vi porto tanto ci fai strada tu? la bottega di Sinor? esatto sono con voi ma stai una domanda ma le cose da mangiare sono a portata di mano cioè tipo buffet sì allora mentre cioè lui dice la bottega di Sinor quindi io sono molto felice di andare alla bottega e provo di soppiato in realtà dato che ho fretta di andare lì ma ho anche fame a rubare qualcosa da mano un piccolo dolcetto di soppiato prenderlo di soppiato vedi che cioè Mena all'oste ti guarda cioè tu stai tutta lì che ti avvicini tutta un po' che cerchi di guarda che sono gratis ma davvero? eh vabbè ma bastava dirlo subito posso posso prenderne uno? grazie devi ah grazie grazie davvero tutto gratis allora prendo qualcosa anch'io forestieri mi inizio a prendere anche le scorte ve li viaggio si fanno tutto un sacchetto altrettanto mangio subito come? io mangio subito non mi faccio nessuna scorta sono entasiato andiamo? andiamo siete sazi? avete mangiato? tu non hai vomitato? no Damia prende effettivamente il dolcetto e lo mette nel mantello non ha nessuna intenzione di mangiare in questo momento perfetto ragazzi vi faccio strada è abbastanza vicino da qui andiamo? facci strada allora io vado con Berian si mette capofila io mi metto subito dietro di te più vicino possibile attento alle mani io mi avvicino a Tara la guardo gli faccio ma lo sai che appena sveglia sei ancora più bella? ma pensate e vado avanti Wix va da Berian e gli dice lo sai che questo cappello stavanti è ancora più bello? però non si ascoltano grazie Wix anche il tuo lo so lo so grazie lo so un giorno ti va di fare a cambio un giorno? quando quando vedrò che sei davvero un eroe sì certo ma io sono un eroe non ci credi? certo che ci credo però voglio proprio vederti ti farò vedere ti farò vedere e cammina così saltellando e canticchiano ancora Taylor nocchio torvo io invece camminando vorrei avvicinarmi a Miller da quanto tempo abiti qui? eh da un bel po' in realtà senti gli arrivi dagli ore e fa anch'io quando ero giovane ero di qua eh ma infatti non ti ho visto spesso qua no diciamo che la mia strada si è fatta molto diversa ma siamo vicino alla mia vecchia casa ah cioè riesco a indicarla beh Erler è veramente un buco c'è un po' 2300 anime una cosa proprio quindi in realtà non si è abbastanza lontano però non stai andando nella stessa direzione ok no ci è rimasto il rubire della mia casa sono un po' strano sono un po' strano sono un po' strano anche tu sei strana che cosa c'hai in faccia? ah questo? eh non lo so è una macchia effettivamente non ti so dire che cos'è e quindi siamo strani tutti e due sì tu un po' di più forza e continuo a camminare però sei particolare mi piaci grazie la mia stiguarda dice non si notava nemmeno dici giuro io comincio a saltellare fischiettando ragazzi siamo arrivati ok vi incamminate per le strade di Erler a un certo punto da lontano vedete un edificio a graticcio a due piani con un insegna con scritto le stranezze di Sinor Tara tu riconosci subito l'edificio che è lo stesso rappresentato nella moneta di rame che ti ha dato tuo padre all'interno entrate all'interno la bottega ha un pavimento a mosaico piastrellato è piena di scaffali disordinati gli oggetti sembrano accatastati su di essi senza un criterio logico in fondo alla stanza c'è un bancone dietro al quale vedete un Duaran adulto intento a fumare una pipa è completamente calvo come tutti quelli del suo popolo e ha gli occhi castani la sua pelle è butterata e grigiastra con diversi tatuaggi di carattere geometrico come tutti quelli del suo popolo sempre ha un viso ovale un po' comune è abbastanza basso ha una corporatura molto robusta indossa degli abiti semplici e diverse borse pendono dalla sua cintura e notate un furetto appollaiato sopra il bancone guarda quanta gente chila speriamo che comprino qualcosa tra le stranezze di Sinor ci sono anche molti tesori sapete salve tu sei Sinor ciao Sinor buongiorno ciao Sinor che bello il furetto tu sei Milir vero? si Sinor ti ricordi di me? eh si ti ho vista qualche volta si volevo passare per chiederti insomma quello che era successo come era andata buongiorno anche a voi buongiorno prego guardate c'è un po' di disordine sapete scusate è successo un po' cosa? cosa di piacevole quindi abbiamo saputo purtroppo avete saputo? siamo qui apposta ma esattamente quando è successo? è successo qualche giorno fa due? tre? beh quattro? tre giorni fa è successo ah ok ti hanno rubato tante cose? beh mi hanno rubato un po' di tutto sicuramente mi hanno rubato tutti i soldi che avevo anche delle gemme che tenevo in una cassa poi mi hanno rubato io gli è cascata una cosa la pipa è caduta sì no poi mi hanno rubato altre cianfrusaglie altre cose che avevo poi mi hanno rubato un libro e mi hanno rubato una cosa a cui tenevo molto Damias come senti il libro non ti fa neanche continuare a parlare ovviamente va subito da te ma per caso questo libro si chiamava il guardiano della lapide? sì dove era? puoi indicare più o meno dove era? lì in quello scaffale lì com'è fatta la stanza? è una stanza quadrata ci sono tanti scaffali ma ti accorgi subito che veramente è un posto super caotico cioè gli scaffali sono pieni di cose messe un po' come capita cioè non c'è un ordine logico ci sono ne so dei vestiti vicino a una caraffa poi ci sta un libro ci sta una sella ci sta tutto messo un po' in disordine quindi ti indica uno scaffale ma posso posso sapere come mai avevi questo questo libro ma perché tempo fa una circa se non ricordo male un anno fa venne un tizio a vendermelo mi sembrava un buon affare era un libro un po' particolare lui faceva il becchino non mi ricordo dove o come si chiama non mi ricordo lui si chiamava Edmur faceva il becchino però non mi ricordo come Edmur ha comprato questo libro per pochi pochi soldi lui voleva venderlo liberarsene secondo me era un buon affare perché aveva degli strani simboli sopra e io poi insomma ho capito che era magico questo libro c'era qualche cosa di io lo guardo da Varan un libro magico faccio l'hai guardato bene sì sì l'ho guardato bene i Duaran hanno come abilità loro l'individuazione del magico una volta al giorno quindi insomma si riferisce a questo se dice che è magico è magico hai un'idea di chi possa essere stato a rubarti questo libro eh sì un po' un'idea un po' un'idea ce l'ho ma il problema è che oltre al libro mi hanno preso anche una cosa a cui tenevo molto che è una mappa una mappa è la mappa è proprio da avventurieri da eroi comunque sì dovrebbe essere stato io sono sicuro che sia stato il bullo del villaggio certo è Win sì proprio lui secondo me c'è lui dietro a tutti questi furti io sono sicuro che è stato lui dove possiamo trovarlo non lo so dovreste chiedere a quella pettegola quella pettegola no non lo so si riferisce probabilmente ad Erin Erin ci avrebbe già detto sicuro comunque comunque io vorrei tanto ritrovare quella mappa ma che mappa era? è una mappa antica una mappa di una città perduta che città? una città che si chiama Agrom Agrom mai sentito? io vorrei tanto ritrovarla quella mappa perché per me ha un valore molto importante Mastrosinor tu proponi un servizio e magari beh sì sì mi posso dare cento monete d'oro ah cento monete d'oro secondo me è stato è stato proprio lui a rubarla poi magari forse anche quel libro e tutte le altre cose perché di solito quando rubano vengono per rubare rubano tutto certo e quindi provando a non farmi sentire da sinore ma dicendolo più tra i denti verso Tare e Damiaz quindi faremo 300 monete d'oro così sì però 200 sono nostre ah comunque è strano che tu mi chiedi di questo libro perché lo sai che l'altro giorno è venuto anche un altro che era interessato a questo libro e chi? era un elfo? sì come dici questa cosa ovviamente la coda di Damiaz si irrigidisce e per quale motivo voleva quel libro? te l'ha detto per caso? no non non era molto disposto a parlare ti ha offerto del denaro? sì mi ha offerto del denaro ma io non avevo il libro lui non ci voleva credere lui come faceva a sapere che ce l'avevi tu il libro? io non lo so come faceva a saperlo è venuto qui e mi ha chiesto proprio di quel libro e non ci voleva credere che io non ce l'avessi si è messo a rovistare per tutta la mia bottega è stato piuttosto spiacevole però alla fine si è convinto che non ce l'avevo e niente poi è andato via è strano che mi chiedi lo stesso libro ma vi conoscete? lo conosci? l'ho conosciuto ah no non è un amico non siete amici? no meno male non era una bella persona perché non è una bella persona? eh perché era un po' è uno davino un damerino un damerino un damerino un po' sei da tutto ma ragazzi è bellissima questa avventura che stiamo vivendo una mappa un libro è proprio una cosa da eroi beh sì già mi vengono in mente almeno cinque ballate sì cinque bellissimo e faranno sempre con dei loro occhi e torbo no magari potresti essere tu il protagonista di uno di questo vedi che c'ho quasi un mancamento Wix io? beh in effetti sono un eroe quindi insomma avresti molto di cui parlare proprio per questo ho sconfitto giganti ecco sì ho sconfitto vedete Yaravel che tira fuori un taccuino tutto smancicato comincia a scrivere sconfitto le creature più incredibili della storia è vero è vero lo dice sempre credi pure no ma non per questo non possono essere delle belle canzone ti prego scrivila 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 ci pensiamo un attimo ma vogliamo andare a cercare questo questo bullo perché a me i bulli non piacciono io voglio voglio combatterlo voglio sconfiggere penso che sì una soluzione potrebbe essere cercare Ewin però dove la andiamo a cercare tu non sai nulla ma tu lo conosci questo Ewin diciamo di vista non è che sia proprio ben visto qui scusate se la gesticola sa tutto magari potremmo ma magari qualcuno che non so una sorella un padre una madre qualcuno che frequenta non sai nulla ma io non lo so non so dove possa essere di sicuro non molto lontano da qui Tara ti accorgi infatti in tutto ciò mentre loro parlano di tutto questo insomma Tara è abbastanza disinteressata sì vuole andare da Ewin sì deve trovare il libro ma vedete che lei si rimette il cappuccio si incubisce proprio e si mette proprio in un angolo si fa da parte e tira fuori dalla sua tasca una moneta ti accorgi che sul sul bancone ci sono altre monete simili a quella che hai tu e lei tiene tra le mani questa moneta che è una moneta quindi del negozio di Sinor in cui c'è scritto le stranezze di Sinor una moneta che le aveva dato suo padre e che apparteneva a sua sorella Isiara che lei sta cercando disperatamente quindi si accorge che sul bancone ci sono altre di quelle monete e si rende conto quindi che sua sorella deve essere passata di lì perché aveva lasciato questa moneta al padre si rende conto quindi di essere nel posto giusto si rende conto ti accorgi che quella moneta e le monete che stanno sul bancone effettivamente sono uguali uguali a quella che tu hai c'è la stessa effigia che poi è il simbolo della bottega ti accorgi di questo quindi questo le fa pensare che in qualche tempo passato la sorella deve essere per forza passata di lì per aver preso quella moneta quindi in realtà ovviamente vuole saperne di più e a quel punto un po' a bassa voce perché è un argomento spinoso e doloroso si avvicina a Sinor e a bassa voce insomma gli chiede ma queste queste monete quindi sono sono proprio tue sono di questo negozio qui beh queste monete sono una specie di biglietto da visita che io ho qui chi viene come voi dei forestieri possono prenderle così si ricordano di questo posto e guarda ne ho una uguale non hanno valore ne hai una ah sei venuta qui quindi no non io e chi una persona che sto cercando ah è mia sorella ah sì e come si chiama si chiama Isiara Isiara non sei sicuro non è mai venuta qui io non ricordo tutte le persone è come me ha i capelli rossi come me non così lunghi un po' più corti ha un caschetto i capelli rossi gli occhi blu è un po' più grande di me è bella aspetta aspetta forse può essere tanto tempo fa non recentemente io non lo so voglio devo solo sapere se è veramente passata di qui e se ci hai parlato se ti ricordi qualcosa fammi vedere un attimo la tua moneta tieni la prende effettivamente guarda bene la moneta e si accorge di qualche particolare che tu forse non hai notato perché insomma ah sì questa questa è un po' diversa ha un simbolo che che avevo messo tipo un anno fa perché poi metto gli anni quindi deve essere passata un anno fa ma te la ricordi? sei una persona che ti somiglia vediamo un attimo sì effettivamente era passata una ragazza con i capelli rossi e come stava? stava bene? sì sì stava bene stava bene perché era venuta mi pare che cerca ah ora mi ricordo sì mi ricordo era venuta qui per cercare un libro poi piaceva molto a chi la vedi il suo furetto che si che si muove gli sale sopra una spalla sì mi piaceva molto chi la chi la si metteva lì e saliva anche sulle sue spalle lei effettivamente cercava cercava un libro che si chiamava non mi ricordo che si chiamava che si chiamava inventalo moca il male sepolto luoghi che dovrebbero essere dimenticati non è lo stesso che cercavate voi appena dice questa questo titolo tu Berian un attimo che vuol dire il male e tu Damias ti ricordi che questo libro quando tu lavoravi come archivista nella biblioteca insomma dei tuoi genitori adottivi era uno di quelli che avevi inserito nella lista da comprare e ti incuriosiva molto ok hai già sentito parlare di questo libro ma volevi tanto leggerlo ma non l'ho l'idea non l'hai mai letto ok non l'hai mai letto e dice si voleva comprare quel libro lì cioè le piaceva talmente tanto questo libro che è rimasto lì due ore e ho detto beh bella se la vuoi comprare compra non è che lo puoi leggere qui e poi te ne vai senza pagare allora lei l'ha comprato e poi se n'è andata e ha preso questa moneta e poi non l'ho mai più vista mi rimedi il titolo del libro scusa il male sepolto luoghi che dovrebbero essere dimenticati quando Sinor finisce di raccontare questa storia Tara in realtà comincia a piangere prova a farlo il più silenziosamente possibile e nella maniera più nascosta possibile si mette il cappuccio lui si accorge sulla faccia tutto bene io mi ci metto quasi davanti quasi a proteggerla dallo sguardo del tipo beh comunque io avrei bisogno di qualcuno per recuperare quella mappa voi io io lui è un eroe io sono un eroe la ritroverò sicuramente sì sì bene quindi anche gratis è un eroe ha ucciso dei giganti anche gratis vero? no un eroe sì nel senso non lo so gli eroi non fanno le cose gratis è solo lui noi non siamo certo Wix ovviamente loro devono aiutarmi quindi le monete magari possono essere per loro perfetto loro chi sono? la tua famiglia? no sono i miei nuovi amici e degli amici che accompagnano un eroe sì certo un eroe anche loro? non lo so non credo beh non come me sicuramente però beh poco importa basta che me la ritroviate in quel momento entra nel locale una una donna una donna? sì chi era Costei? che bello il furetto lo voglio anch'io nel frattempo è una donna entra entra una giovane donna umana ha i capelli neri ha caschetto e gli occhi neri la sua pelle è olivastra e luminosa ha un viso bello ha un'altezza nella media è snella indossa una camicia bianca e dei pantaloni di pelle e appena entra vi accorgete che Sinor un po' si incubisce va con lo zoppo e impara a zoppicare un giorno non troverai più niente da comprare qui tu lo sai di che è la colpa e lei si buffa mi dai due selle per favore Milir Milir la conosci? ma di vista sì tu Milir l'hai vista alle spade incrociate ogni tanto è una ragazza che si chiama Teni e diciamo lei ha una stalla quindi ha dei cavalli insomma si occupa del maneggio quindi insomma la conosciamo di vista sì di vista ma non ci hai mai parlato ok e vedi che lei però scusami so che è so chi è insomma sì di vista la conosci di vista sai che è di qua insomma lavora alla stalla di Erler e perché lei lei me l'ha detto me l'ha detto Elin non avevo dubbi lei stava lei stava con quell'Ewin ancora con questa storia basta in che senso stava stava insieme quella non si fa mai gli affari suoi sì mi ha detto che vi ha visto baciarvi una volta quindi stavate insieme si fa interessantissima la questione forse lei sa dov'è sì davvero sì so dov'è quel farabutto mi ha mollato noi ci conosciamo aspetta aspetta quindi adesso tu non non è più un ragazzo cioè tu mi hai fermato per vista cosa lo odio lo odio quindi Sinor per favore basta di mettere in giro queste cose anche se è vero fatti gli affari tuoi per favore io non ne voglio più sapere di quel farabutto esatto e voi neanche scusate chi siete voi Gia Ravel Bardo lui è famosissimo ha scritto un sacco di una ballata tantissima un altro pettegolo no 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 e canto canti stiamo cercando delle informazioni io ho detto scusa stiamo cercando delle informazioni importantissime ci serve di sapere dove dove è devi dircelo vedete che Tara improvvisamente riprende a sorridere riprende a fischiettare lei è caratterizzata da questi improvvisi e repentini sbalzi d'umore quindi è ok ciao tu sei mi sono Penny ok ma che vi ha fatto Ewin perché volete sapere qualche cosa pensiamo che possa aver fatto più che altro che non ha fatto si dice che lui sia il quello che ha derubato qui ha detto Sinor vero Sinor beh sì sicuramente è stato lui chi altri può essere stato e quindi dobbiamo parlarci perché dobbiamo risolvere questo mistero esatto dobbiamo riportare la luce una così bella ragazza non dovrebbe mai super amore ragazzi guarda ho placatini squadra bella pelle vedi che sei vestito di pelle anche tu come lei anche lei ha dei pantaloni di pelle dai sì in effetti merito di meglio di quello concordo assolutamente certo i miei capelli dici no? sono belli pazzeschi più belli di ieri più belli di ieri anche più belli di lei comunque comunque parlavi male del tuo ragazzo fate parlare questa ragazza è importante vedi che si intromette perché comunque ha messo gli occhi su Danias ecco qua e quindi vedendo che tu comunque cercavi un attimo di insomma essere molto carina con lui e lei ti ha messo gli occhi addosso ma siete andati allo stesso mercato a comprare i vestiti? non lo so vorrei vorrei sapere perché c'entra? Wix non ci interessa sono curioso dovremmo approfondire comunque questi abiti vengono direttamente da Ether non credo che tu conosca dove da chi? no infatti da Ether molto bene ho sentito parlare ma non ci sono mai stata comunque va bene venite con me Sinor tu fatti gli affari tuoi la prossima volta è chiaro? poverino allora vi prende da parte io potrei dirvi dove dove è Ewin però vorrei tanto che pagasse per quello che non solo ha fatto a me io lo so che c'è lui dietro tutti questi furti lo so però vorrei che non gli faceste del male è un veramente un farabutto però ma cosa ti ha fatto scusa? beh non solo mi ha mollata ma voleva cercare di utilizzare me come copertura per certe sue attività dicendo io mi sono rifiutata terribile veramente un bricconuccele ma a noi servono solo delle vorrei io vi posso dire dove stavo però vorrei che vi catturaste vorrei che non gli faceste del male non merita Tamias ti guarda dritto negli occhi e vedi che proprio il colore degli occhi gli cambia diventano improvvisamente blu un blu acceso come i miei più belli ti guarda e ti dice con una voce rassicurante molto usando delle noti proprio gravi ti prometto che non li farò nulla rimane allora non vedo l'ora che lo consegnate va bene quindi dove sta bene potete trovarlo il suo cubo è da qualche parte a nord a nord di qua dovete seguire la strada dei monti a un certo punto c'è una curva che gira verso ovest e appena inizia la curva ci sono quattro querce dopo la quarta quercia dovete cercare da qualche parte lo troverete lì andiamo subito allora quarta quercia sì ma io forse so dov'è non so quindi ti seguiamo attenta che inciampi è cascato il puretto ma sei avesa è tutto sound design questo è tutto molto bello ragazzi mi ci porto io tanto ormai sono la vostra guida mi manca solo l'ombrellino quindi vi porto io Teni non viene vero? no no vero sicura non ci pensa neanche neanche non ci teli fermo gli arrabbi ma dove va? che fai? era una battuta da lì a me parti ritorno tutti alle mie battute perché voi no? ma anche qua hanno reso tutti sentite un voce quindi ok vi fate questo ulteriore accordo eh? mazza così non voglio essere da meno vabbè uscite fuori dal dalla bottega di Sinor Teni vi saluta da adesso rega infatti non ridevo Teni vi saluta e niente la nostra sessione finisce qui ma ma mog dirà la sua per salutare diciamo la fine di questa sessione e così alla fine è proprio il caso di dirlo tutte le spade portano a Erler i nostri eroi si sono incontrati seguendo ognuno la propria strada ora che hanno trovato uno scopo comune proseguiranno nella stessa direzione non ci resta che scoprirlo insieme grazie ma sì ma sì me non cambia niente io e te siamo altri uguali se tu ti impiedi grazie sono tutti per te Wix grazie grazie un applauso a David Chevalier è solo grazie a lui un applauso a tutti i ragazzi qua uno meglio dell'altro bravi grazie ogni tanto però grazie perché ci hanno supportato tantissimo anche in live su Twitch di Luca Comics leggiamo leggevo che volevano la calzone del furetto arriverà ah certo assolutamente Spotify domani c'è Spotify dobbiamo trovare la piattaforma di di Denra di Denra non so se abbiamo tempo se vogliono fare domande non so ma sì certo volete fare qualche domanda senza impegno non mi sentite in soggezione assolutamente non mi affollate però in realtà domani domani abbiamo la domanda noi ci vediamo domani alle dieci domani alle dieci mi raccomando dieci facciamo la presentazione domani presentiamo con la madre dei draghi grazie è un onore grazie grazie mille grande onore e poi volevo dire no no era per ridere è davvero grande onore non lo so ma c'è il momento delle domande tue Ale no io volevo dire che insomma se volete sapere come andrà insomma per chi forse già ci seguite però magari qualcuno no quindi MoxTronic MoxTronic e lui è ripresa è ripresa allora MoxTronic iscrivetevi al canale insomma noi abbiamo abbiamo cominciato questo progetto da poco da poco quindi ovviamente i contenuti adesso arriveranno questa è la prima sessione questa è la prima sessione per adesso ci sono solo contenuti al di fuori della sessione e iscrivetevi al canale troverete tutto lì noi siamo molto felici molto orgogliosi di Davide di quello di questo progetto e siamo sono entusiasti e quindi ne vedrete delle belle insomma dai grazie per averci seguito grazie a tutti è stato bellissimo veramente spero che vi siate divertiti se avete domande non siete timidi veramente ah sì le fanno domani andiamo a mangiare è tardi andiamo a mangiare andiamo andando a mangiare sì andiamo a mangiare e andiamo a mangiare è stato bellissimo andiamo a fame tutti grazie 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 ciao 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 Grazie.